ciao a tutti il mio nome è rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine la storia che voglio raccontarvi oggi è un viaggio dentro la follia quella di un uomo incapace di tenere a bada i propri impulsi e che vota la sua intera esistenza al male un uomo sempre in fuga che dissimula e che nella sua follia mostra una lucidità impareggiabile oggi vi racconto la storia rocambolesca di bartolomeo gaiano è difficile posizionare nel tempo l'inizio di questa storia come è difficile collocarla nello spazio sì perché il protagonista di questa assurda vicenda umana sembra aver vissuto più vite direi però che potremmo iniziare quasi dalla fine e da un annuncio per certi versi de modè specie nel 2010 in piena era social apparso su un giornale e che recita così detenuto decisamente infernale corrisponderebbe esclusivamente con detenute indicibilmente stupende perfette senza questi requisiti astenersi scrivere a segue nome e indirizzo il detenuto infernale come gli stesso si definisce nel 2013 ha alle spalle 32 anni di detenzione presso diversi ospedali psichiatrici giudiziari e si prepara l'ennesima fuga questa volta da un carcere dove sta scontando l'ennesima pena la prima volta in un ospedale psichiatrico giudiziario per lui risale al 1982 a quando aveva 22 anni e allora riavvolgiamo il nastro e torniamo a 32 anni prima osserviamo questo ragazzo mentre con i suoi ricci scuri e lo sguardo incattivito colpisce con inaudita forza una pallina contro il tavolo da ping pong all'interno dell'area ristoro dell'ospedale psichiatrico criminale di aversa il ragazzo a stessa colpi come se scagliasse dardi di fuoco contro un nemico immaginario è cattivo quando colpisce e accompagna ogni colpa un ghigno strano è un suono innaturale che sembra venire fuori dai meandri di sé lui si chiama bartolomeo gagliano e fuori dal tavolo da ping pong è un ragazzo tranquillo ligio al dovere che non alza mai la voce che se ne sta buono buonino senza dare fastidio a nessuno uno con cui è piacevole chiacchierare che non mostra mai l'abisso di mostruosità che cova dentro di sé uno che per dire si massacra di addominali e flessioni e che si fa serenamente i fatti suoi bartolomeo gagliano sembra uno che con l'ospedale psichiatrico giudiziario non c'entra proprio nulla ma allora perché si trova lì e cosa nasconde dietro quell'apparente normalità bartolomeo gagliano nasce nel 1959 a nicosia in provincia di enna un piccolo borgo siciliano che si erge attorno al castello abbarbicato nella roccia più alta della città vecchia torre di guardia un luogo ameno e dalla bellezza commovente ma che il piccolo bartolomeo abbandonerà presto insieme ai genitori antonio gagliano e giuseppina di grazia e il fratello natale bramosi di una vita migliore lontano dall'essasperante precarietà di quel piccolo mondo antico i tre valigia di cartone al seguito si trasferiscono nel 1965 a savona in liguria nel quartiere di villapiana dove bartolomeo cresce e vive la sua giovane esistenza all'interno di una famiglia di umili origini allevato da due genitori intrisi di rettitudine e onestà al rispetto di quei valori con i quali erano cresciuti loro per primi un'infanzia normale la sua senza traumi scossoni è un bambino ambizioso bartolomeo studia con profitto e a tutti dice di voler fare il medico e chissà magari antonio e giuseppina quel ragazzino assennato con la testa sui libri se lo immaginano già primario esempio del più mirabile sogno italiano emigrati e con un figlio prodigio ma non sempre bartolomeo è un bravo figlio educato e a modo intanto a un certo punto del suo percorso scolastico bartolomeo sembra avere perso interesse nello studio e si fa bocciare un paio di volte ma non solo ci sono momenti in cui non sembra lui in cui urla strepita e rompe tutto pervaso da una rabbia incontenibile in quei momenti giuseppina prega e così tra un rosario e l'altro un ave maria un padre nostro affida a dio quel figlio che certe volte le sembra proprio un demonio o forse è solo un poco strammo cioè un termine siciliano che indica un comportamento delle volte sopra le righe episodi niente più che episodi che non intaccano l'affetto e le aspettative che riversano sul loro ragazzo riccioluto e così immerso in quella routine rassicurante il piccolo bartolomeo si fa grande prima adolescente e poi giovane uomo alle prese con gli amici le prime fidanzatine e la spensieratezza dei vent'anni e il 1981 bartolo ha 22 anni lavora nella ditta di autotrasporti del padre ha una bella fidanzata di finale ligure credente rispettosa delle regole e che bartolomeo ama teneramente ricambiato i due nonostante la giovane età vogliono sposarsi e per questa ragione si mettono alla ricerca del nito d'amore perfetto quello dove mettere su famiglia tutto sembra mettersi per il verso giusto e persino quel carattere un po strano di bartolomeo quelle sue esplosioni d'ira sembrano essersi placate ma è solo un vulcano inattivo pronto ad esplodere sì perché bartolomeo al di là della facciata da bravo ragazzo tutto casa e fidanzata è comunque un ragazzo irrequieto pervaso da travolgenti passioni e che nell'attesa di coronare il sogno d'amore non disdegna di accompagnarsi con qualche prostituta e ce n'è una in particolare che il giovane bartolomeo frequenta con assiduità una certa paolina fedi di 32 anni una ragazza ai margini della società che si paga le sostanze da cui è dipendente vendendo il suo corpo una cui la vita non ha mai regalato nulla anzi tutto il contrario la loro storia iniziata come un rapporto fra cliente e prostituta in breve si era trasformata in una vera e propria relazione paolina diventa la sua amante ufficiale quella che bartolo va a trovare ogni volta che viene via da casa della fidanzata paolina è per il ragazzo una tela bianca sopra la quale dare vita tutte le sue fantasie più sfrenate quelle che con la sua mite fidanzata non può in nessun modo mettere in pratica paolina è più grande sfrontata aperta e disponibile non lo giudica non lo guarda con schifo per quelle fantasie che lo dominano lei però non può sapere che bartolomeo è prossimo al matrimonio ma soprattutto di quel ragazzo riccioluto si innamora follemente bartolomeo però quella situazione inizia a non reggerla più dice un sacco di bugie alla fidanzata ma le dice anche a paolina e il suo equilibrio emotivo inizia lentamente a vacillare così una fredda notte di gennaio decide di lasciare la sua amante per sempre e il 16 gennaio 1981 quando il mondo di paolina crolla rovinosamente di fronte alla rivelazione di un uomo che le aveva giurato amore eterno e che invece le stava dicendo di essere già fidanzato con una casa arredata e una data di matrimonio già stabilita paolina se ne doveva fare una ragione non poteva certo pensare che lasciasse tutto per stare con lei la ragazza però non ci sta non accetta di essere messa da parte in quel modo come un oggetto che non si vuole più e così decide di vendere cara la pelle e lo minaccia di spifferare tutto la fidanzata e a chiunque le capitasse a tiro con la precisa intenzione di far crollare il suo misero castello di bugie e menzogne uno scenario agghiacciante per il giovane bartolomeo che colpito dalla furia di paolina non sa come reagire o forse sì lo sa e sta solo raccogliendo il coraggio per dare corpo ad altre fantasie quelle che insieme a quelle sul sesso spinto dominano la sua mente ma che aveva disperatamente cercato di seppellire nei meandri del suo io e il sangue ad attrarlo come è più del sesso furioso e paolina dentro l'auto sul cio dell'autostrada genova savona gli stava dando il pretesto perfetto l'uomo con una scusa scende dall'auto afferra un grosso masso trovato sulla piazzola dove si erano fermati rientra in auto e con ferocia scaglia quel grosso masso contro paolina gaiano la colpisce innumerevoli volte alla testa e al volto fino a rendere il suo viso irriconoscibile a spaccare il cranio paolina muore così assalita da quello che credeva un ragazzo mite sono un po strano nelle sue richieste ma incapace di tale orrore dopo averla uccisa tira via il cadavere dall'auto e lo lascia in mezzo alla piazzola di sosta dell'a10 poi abbandona l'auto del padre una fiat 124 nei pressi del casello autostradale a pochi metri da quel corpo straziato non ci vorrà molto prima che qualcuno si accorga del cadavere e dell'auto abbandonata intestata a un certo antonio gaiano e non ci vorrà molto prima che arrivino a lui al giovane bartolomeo lo trovano mentre vaga sulla spiaggia di celle ligure impossibile non notarlo sia perché è gennaio e la spiaggia è deserta sia per il suo abbigliamento che tradisce la passione di gaiano per gli stati uniti stivaletti da cowboy bianchi jeans chiodo di pelle una banana rossa a tenere a bada la folta chioma riccioluta occhiali raiban vistosi anelli alle dita e scalzo gli stivaletti li tiene in mano per non rovinarli dice quello con paolina e per l'uomo il battesimo del sangue il ragazzo viene arrestato ma per lui gli avvocati prospettano subito una perizia psichiatrica perché pare non starci con la testa e in effetti bartolomeo non solo non sa spiegare a se stesso né agli inquirenti i motivi di quella furia cieca ma si accorge anche che qualcosa in lui è totalmente cambiato il ragazzino mite che voleva sposarsi e trovare un posto fisso è stato totalmente dominato da questo demonio feroce che non prova pietà empatia non prova niente assolutamente niente l'ho picchiato un po dice aggiungendo che aveva cercato di soccorrerla ma poi aveva cambiato idea e aveva finito per sfondarle il cranio con una grossa pietra la perizia psichiatrica si dichiara a favore dell'infermità mentale per i periti bartolomeo gaiano quando ha ucciso la povera paolina era totalmente incapace di intendere volere era fuori di sé in tutti i sensi il 22enne incensurato che non aveva mai preso neanche una multa finisce in uno dei sei ospedali psichiatrici criminali d'italia ad aversa per scontare una pena di 10 anni lì diventa un soldatino il gaiano tanto che in tanti si domandano cosa ci faccia lì lui che sembra così presenta a se stesso si dedica al ping pong agli addominali legge ogni tanto si chiude in un disperato mutismo altre volte fa cose strane come bagnarsi i capelli in pieno inverno altre volte ancora prova a togliersi la vita gesti plateali che gaiano attua per protesta quando qualcosa non corrisponde ai suoi desideri è sempre in sicurezza tanto che viene sempre salvato in estremis dai suoi compagni di detenzione a questi momenti di grande disagio psichico seguono altri di apparente tranquillità tanto da meritarsi a neanche due anni dall'arresto un primo permesso premio nel giugno del 1983 quella sarà l'occasione per gaiano di attuare una delle sue tantissime fughe e bartolomeo per la prima volta fuori dopo due anni di detenzione si ritiene un uomo libero e così per nulla intenzionato a rientrare si dà alla fuga ma non è una fuga come tante la sua no bartolomeo non può sparire tra la folla mimetizzarsi e rendersi invisibile no deve dare sfogo a ciò che la sua mente ormai deraiata gli suggerisce di fare ad esempio cercare di raggiungere in qualche modo massa carrara e da lì trovare il modo di tornare a savona a massa intercetta un furgone fermo in una piazzola di sosta al volante c'è un uomo accanto a lui una donna sui sedili dietro tipica attrezzatura da mare due coniugi felici con il proposito di andare a mare almeno questo è ciò che avrebbero voluto fare prima di incontrare gaiano sulla loro strada a bartolomeo basta un'occhiata per saggere la situazione gente innocua che avrebbe di certo sotto minaccia fatto tutto ciò che gli avrebbe ordinato di fare e così non ci pensa due volte apre la portiera e sale sul furgone intimando a quel pover uomo di dirigersi verso savona li minaccia senza preoccuparsi dei loro volti terrorizzati costretti a viaggiare con un uomo che non sembra padrone delle sue emozioni 170 chilometri più tardi bartolomeo gaiano scende dal furgone è solo l'inizio di un pomeriggio di follia perché gaiano non pago di avere terrorizzato un'intera famiglia prende in ostaggio un tassista si infila nel suo taxi e inizia a guidare in cerca di una via di fuga ma il tassista è lucido e in qualche modo riesce ad avvisare la polizia di ciò che sta accadendo all'interno del suo taxi quando sente le sirene della polizia gaiano ferma l'auto scende afferra un vigilo urbano intento a dirigere il traffico e riesce a sottrargli la pistola d'ordinanza così con l'arma in mano si mescola a una scolaresca in gita acciuffa una studentessa e con una pistola puntata alla tempia minaccia di spalarle poi facendosi scudo della ragazzina si rifugia all'interno di un negozio dove tiene in ostaggio altre persone per quattro interminabili ore ore in cui minaccia di farsi del male o farne ad altri alla fine bartolomeo gaiano si arrende viene riportato in un ospedale psichiatrico giudiziario questa volta però presso la villa medicea dell'ambrogiana a montelupo fiorentino in provincia di firenze ed è un brusco risveglio per lui che in quel pomeriggio di follia aveva riassaporato il gusto della libertà e del totale abbandono di ogni freno inibitorio in quell'ospedale deve tornare alla routine di sempre circondato da quelli che pazzi lo sono davvero che scrivono sui muri di stare bene che urlano strepitano danno testata il muro mentre egli deve reindossare gli abiti del paziente detenuto modello tenuto a bada dagli psicofarmaci e dall'attività fisica eppure qualcosa di straordinario e del tutto inaspettato accade dentro quelle mura che ricurgitano dolore spavento bartolomeo conosce un altro detenuto e tra di loro nasce un'amicizia fortissima estrema indissolubile il suo nome è francesco sedda sedda è coetaneo di gaiano ma è originario di nuoro e come bartolomeo nonostante i natali è un ligure fatto e finito cresciuta a genova ultimo di una numerosa prole fin da ragazzino si dà un grande affare furti rapine scippi dai 18 anni in poi entra ed esce dal carcere fino a che all'ennesima condanna il giudice stabilisce che forse dietro la propensione alla criminalità c'è un impulso irrefrenabile a delinquere qualcosa che il carcere normale non può in alcun modo curare sedda è un uomo dalla personalità borderline rabbioso fino al parossismo ossessionato dal sesso estremo ha inoltre tendenze psicotiche indotte anche dall'abuso di sostanze e poi la sua condizione fisica lo rende totalmente incompatibile con una detenzione normale sedda e siero positivo nel 1982 viene rinchiuso nell'opg di montelupo fiorentino lì dove conosce gaiano la cella nella quale vengono messi insieme diventerà il covo ideale per questi due individui della mente deragliata in quella cella intrecciano legami mescolano le loro personalità fragili quella esuberante di sedda sanguigna e visceralmente rancoroso e chiama a parlare fino allo sfinimento e quella più remissiva di gaiano che invece ama ascoltare e che quella stessa rabbia il più delle volte la reprime insieme fanno grandi progetti progetti di fuga ovviamente fuori dalla cella però i due fingono indifferenza non si fanno mai vedere insieme anzi si ignorano e così giorno dopo giorno nell'intimo della loro cella invece quel loro sodalizio quella joint venture criminale si cementifica sempre di più fino alle estreme conseguenze a fare da contrappeso fra i due un terzo personaggio un detenuto originario della campagna di nome carratù che si è finto matto per non farsi il carcere e che gestisce un piccolo traffico di armi da taglio e sostanze l'uomo ha una personalità dominante e costringe sedda a procurargli una stecca di sigaretta la settimana il tutto finisce però quando carratù viene ritrovato in fin di vita dietro i bagni del cortile qualcuno durante l'ora d'aria lo aveva aggredito con inaudita ferocia uccidendolo quasi si era salvato per il rotto della cuffia e quella aveva tutta l'aria di essere una spedizione punitiva da parte di qualcuno peccato che l'uomo nel dare la sua versione dei fatti parlerà sempre di una caduta accidentale fine della storia in realtà carratù dietro quei bagni c'era stato trascinato proprio dai due sodali gaiano e sedda la prima di una lunga scia di sangue insieme da quel momento né sedda né gaiano saranno più costretti a fare favori a nessuno tanto meno al loro compagno di detenzione carratù gli anni passano all'ambrogiana e di nuovo i demoni di gaiano hanno il sopravvento sulle sue emozioni e poi adesso c'è sedda che manifesta come lui una rabbia sempre più crescente e che alimenta quella di gaiano i due insieme sono una bomba pronta ad esplodere specie sedda fra i due quello che innesca la miccia non ce l'ha con tutti sedda il suo odio è preciso chirurgico e indirizzato a tutte quelle donne che negli anni in cui aveva dato sfogo a ogni fantasia sessuale gli avevano probabilmente contagiato la malattia e tanto ne parla con gaiano che alla fine anche lui prende a odiare tutte quelle donne con cui era stato e che solo per un fortuito caso del destino noi avevano trasmesso la stessa malattia quell'odio andava sfogato in un modo o nell'altro i due tentano la fuga e ci riescono l'11 gennaio 1989 le avevano pensata nei dettagli quell'evasione approfittando di ogni istante per parlarsi e pianificare la mattina dell'11 gennaio si decidono a farlo scavalcano il muro di cinta immobilizzano e rendono inoffensivo un agente di guardia presso un cancello secondario poi indisturbati escono dal carcere rubano un'auto e si dirigono verso genova la notizia della loro fuga dall'opg però passa del tutto inosservata i due a malapena vengono cercati ma non ci vorrà molto prima che si torni a parlare di loro l'8 febbraio 1989 dentro il boschetto adiacente a una piazzola di sosta dell'autostrada milano genova viene ritrovato il cadavere di una prostituta transessuale il suo corpo giace sul terreno che lambisce una piccola piazzola di sosta a pochi chilometri dal casello di vignolo e borbera il suo nome è nahir fernandez rodriguez 32 anni originaria del paraguai nahir che viveva a milano era stata vista per l'ultima volta due giorni prima del suo brutale omicidio alla stazione centrale dove aveva preso un treno per genova il suo biglietto di ritorno mai convalidato viene ritrovato tra i suoi effetti personali la notizia però sui giornali non merita che un trafiletto ai margini così come le indagini non prevedono chissà quali sforzi investigativi una sola pista possibile un cliente preso da un raptus improvviso un po come cercare un ago in un paiaio cos'è che capitano se sei una prostituta rischi del mestiere come si potrebbe dire con spietato cinismo eppure quello che sembra un episodio isolato si verifica nuovamente il 14 febbraio il giorno in cui un'altra prostituta transessuale di nome vanessa viene ritrovata uccisa vanessa che dagli amici si faceva chiamare francesca è una 32enne con un passato da tossicodipendente e che vive in vico diuntoria nei pressi dell'antico porto e che viene ritrovata morta all'interno dell'auto di un cliente uccisa da un colpo sparato al viso da una pistola calibro 7 65 che gli ha devastato il volto accanto a lei viene ritrovato anche il suo cliente un 34enne operaio che per fortuna era stato solo ferito di striscio i due vengono rinvenuti all'interno di una lancia in zona carignano a genova vicino corso saffi la zona dove abitualmente le donne e le donne trans vanno a prostituirsi viene subito scartata la pista della rapina forse ipotizzano era stato il gesto di un amante geloso però vanessa francesca non aveva alcuna relazione in quel momento in un tempo passato vanessa aveva avuto un altro nome francesco panizzi è un'altra vita durante quell'altra vita si era fatta anche il carcere per via di un furto in casa di una zia la morte di vanessa però sconvolge chi la conosce specie perché quella sarebbe stata per lei l'ultima notte in cui avrebbe venduto il suo corpo il giorno dopo sarebbe partita per la spezia dove vivevano i suoi genitori alla ricerca di una nuova esistenza tutta da ricostruire era felice vanessa una felicità che qualcuno interromperà la notte di san valentino secondo il racconto del cliente mentre i due erano appartati dentro l'auto un uomo si sarebbe avvicinato alla portiera mostrando la pistola solo a quel punto vanessa pensando a una rapina sarebbe scesa dall'auto per consegnare la sua borsa e solo in quel momento un colpo a distanza ravvicinata l'avrebbe colpita al volto distruggendole completamente il viso lo stesso proiettile poi avrebbe raggiunto il cliente col pendolo di striscio ma c'è un particolare che colpisce gli inquirenti nair fernandez rodriguez la donna trans trovata morta una settimana prima in un boschetto dell'autostrada era stata uccisa nello stesso identico modo un colpo sparato al viso da una calibro 7 65 e poi il giorno dopo il 15 febbraio 1989 accade di nuovo questa volta si tratta di una donna anche lei prostituta laura baldi che vive come vanessa a vico dell'untoria la donna si prostituiva abitualmente nella circonvallazione a mare di genova ed è lì che verrà ritrovata con la mascella fracassata anche lei colpita al volto da una calibro 7 65 anche laura come tante altre prima di lei si prostituiva per necessità per procurarsi l'eroina un'esistenza ai margini la sua come ai margini e la sua quasi fine ritrovata sull'asfalto con la faccia cancellata da un proiettile l'ombra di un serial che colpisce prostitute donne transessuali si fa strada nel frattempo la cronaca ribattezza il killer come il giustiziere di san valentino qualcuno però la notte del 15 febbraio quel killer lo ha visto bene e fornisce una sommaria descrizione alto un metro e 75 circa scuro di carnagione e con degli inconfondibili ricci a notarlo uno studente universitario che abita lì vicino e che la stampa ribattezza come lo studente nottambulo ma non è il solo a fornire indicazioni sul killer misterioso tempo dopo la stessa laura che miracolosamente era sopravvissuta a quella terribile aggressione darà una descrizione del suo aggressore il 16 febbraio alla redazione del secolo decimo nono arriva una chiamata piuttosto strana un uomo afferma di essere lui l'autore degli omicidi ucciderò ancora le conosco tutte una per una sono le ultime con cui sono andato e che mi hanno contagiato sono siero positivo per colpa loro io morirò ma le porterò via con me ne ucciderò altre tre voglio essere sicuro di ammazzare quella giusta il 18 febbraio 1989 gli inquirenti sembrano aver trovato il loro colpevole il presunto omicida è un cuoco disoccupato anche lui altro un metro e settantacinque scuro di carnagione e con dei folti capelli ricci e anche lui stranamente vive a vigo dell'untoria il suo nome libertino marchese nessuno in quel momento pensa ai due pazzi scappati un mese prima da un manicomio criminale come tutti al tempo li chiamavano ancora gaiano e sedda sono due fantasmi nella notte di cui nessuno si occupa che nessuno vede due invisibili no il cuoco disoccupato con quelle morti violente non c'entrava proprio nulla l'uomo verrà scarcerato il 20 febbraio 1989 qualcuno in questura aveva finalmente collegato i fili quell'identikit è spaventosamente simile a quello di un detenuto fuggito dall'ambrogiana partolomeo gaiano e che il 20 febbraio 1989 a bordo di un opel corsa verrà fermato un posto di blocco ed arrestato insieme a lui un altro uomo francesco sedda il suo complice di sangue che però riesce a fuggire tra i carruggi di genova quando lo arrestano gaiano è in possesso di una pistola calibro 28 non quella con cui aveva ucciso nahir vanessa e ferito laura baldi anche se alcuni bossoli della 765 verranno ritrovati sui sedili dell'auto dando la conferma agli inquirenti del suo pieno coinvolgimento quando gli contestano i reati gaiano ne è quasi compiaciuto nel raccontare l'agguato a laura baldi descrive quasi divertito il modo in cui il sangue della donna zampillava dal suo collo poi chiede è morta no gli rispondono poi corrozza retorica mista uno strano senso religioso dice se ho sparato e non ho ucciso è perché all'ultimo una forza sovrannaturale ha deviato la mia mano perché sono uno strumento divino agisco e decido chi vive e chi muore l'ennesimo arresto l'ennesimo opg questa volta quello di reggio emilia solo senza il suo sodale che nel frattempo continua la sua fuga che però si arresta dopo pochi giorni il 25 febbraio 1989 l'uomo si consegna alle autorità e non ci crederete mai ma per qualche assurdo motivo chiamiamola svista sedda finisce nello stesso opg in cui era stato rinchiuso gaiano qualche giorno prima a reggio emilia la coppia per volontà delle autorità o per uno strano scherzo del destino si riunisce nuovamente ma qualcosa è cambiato gaiano è preda di un'angoscia che lo tormenta e che lo porta a tentare di togliersi la vita non ci riesce ma il sodalizio con sedda è ormai un capitolo chiuso i due i loro propositi di fuga se li pianificano in solitaria e difatti gaiano appena un anno dopo nel 1990 sempre approfittando di un permesso premio fugge e si dirige a firenze lì dove sa di trovare lei la sua nuova fidanzata sabrina ammannati 23enne fiorentina con cui l'uomo aveva intrecciato una relazione aveva conosciuta qualche mese prima in una discoteca quella dove il giudice di sorveglianza gli aveva concesso di andare pensato un po è una fuga d'amore quella di gaiano e potremmo chiudere così questa storia indignandoci per la dabenaggine del tribunale di sorveglianza che ha continuato a premiare bartolomeo nonostante i suoi agghiaccianti precedenti invece questa storia sembra non avere fine perché qualcosa va maledettamente storto bartolomeo a quella sua fidanzata 23enne spara al viso sul suo letto dopo aver consumato un rapporto la ragazza verrà ritrovata da un familiare con il viso devastato e il letto completamente zuppo di sangue sarà lo stesso gaiano in pieno delirio il giorno dopo ad autodenunciarsi ho ucciso una mia ragazza dirà la donna in realtà era viva seppur presa per i capelli ma la polizia che era già sulle sue tracce non farà in tempo ad arrestarlo perché l'uomo si presenterà da solo in questura il giorno dopo quella telefonata gaiano dirà che non voleva fare del male alla sua fidanzata era stato solo un tragico incidente il colpo era partito da solo anche sabrina per paura di ritorsioni chissà lo scaggenerà da ogni responsabilità era stato solo un incidente un gioco erotico finito male ma non basta salvare gaiano dall'ennesimo arresto lo riportano a reggio emilia e lì come sopito rimarrà per qualche mese buono buono in attesa di risvegliare il demone nel frattempo anche sedda si dà da fare e nel 1991 fugge dell'opg per unirsi a una banda di rapinatori con il quale metterà segno una rapina busalalla al banco di chiavari e della riviera ligure una rapina che però per qualche ragione andrà malissimo un passante dall'esterno si era accorto di quanto stava accadendo e aveva dato l'allarme intervengono i carabinieri che iniziano un conflitto a fuoco con i rapinatori uno dei malviventi viene colpito e muore sedda invece scappa e si rifugge dentro una tavola calda dove tiene in ostaggio la commessa per mezz'ora è un uomo perso nella propria disperazione e al culmine di quel pomeriggio di delirio tira fuori una lametta da barba e inizia a tagliozzarsi un braccio e solo allora si arrende e viene catturato quella sarà la sua ultima fuga non ci proverà mai più morirà nel 1994 a soli 34 anni all'interno dell'opg per cause sconosciute gaiano invece ci riproverà ancora ancora e ancora e qui la storia assume contorni a poco grotteschi sì perché l'uomo riesce di nuovo a fuggire nel 1991 e indovinate come grazie all'ennesimo permesso premio per trascorrere il capodanno a savona insieme ai genitori l'uomo a savona non si farà mai vedere né tantomeno rientrerà a reggio emilia il giorno dopo il 6 gennaio 1991 su un editoriale di repubblica a firma del giornalista piero valentino arriva forte la denuncia per quel sistema di permessi che premiavano un uomo totalmente incapace di intendere volere e soprattutto estremamente pericoloso e incline a reiterare i reati il mistero più grande scrive valentino resta la ragione per cui i giudici di sorveglianza continuano a dare fiducia a un killer che quella fiducia l'ha sempre tradita nel 1994 fugge nuovamente aggredisce un metronotte e di nuovo si costituisce nel 1998 viene persino coinvolto nelle indagini per la cattura di donato bilancia il serial dei serial nel 2004 finisce di scontare la sua pena ma gaiano fuori dai guai non riesce a stare e così nel 2005 viene nuovamente arrestato per una rapina presso un ufficio postale di savona stavolta lo portano nel carcere di marassi durante l'interrogatorio in uno dei suoi soliti scatti d'ira afferra un attacca panni e distrugge completamente l'ufficio rompe le finestre devasta il mobilio dovranno legarlo per placare la sua furia distruttiva l'anno successivo è di nuovo fuori per effetto dell'indulto una settimana dopo si rende protagonista di un assurdo tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore di borgio verezzi viene arrestato nuovamente e condannato per direttissima a otto anni di reclusione viene tradotto al carcere di saliceta san giuliano nel modenese lì dove per tutti i direttori del carcere compreso è un banalissimo rapinatore un criminale da strapazzo poco più che un ladro di polli uno che si fa beccare ogni volta che ne combina una delle sue un tipo apposto tutto sommato che si fa i fatti suoi certo si definisce un detenuto infernale ma è un uomo mite alla fine con cui ci si passa volentieri del tempo del suo passato degli omiti della follia lucida che lo pervade nessuno sa assolutamente nulla e non lo sa soprattutto il giudice di sorveglianza di genova dove nel frattempo gaiano è stato trasferito a marassi che il 18 dicembre del 2013 gli concede un permesso premio il suo terzo permesso premio in quell'anno e niente era mai accaduto in casa con mamma nuzza come affettuosamente la chiama bartolomeo trascorre due giorni stato di grazia è felice allegro lei gli prepara i suoi manicaretti preferiti le costine di agnello i carnelloni ma è una felicità che dura poco l'umore di gaiano è volubile gli basta niente per accendersi è il giorno prima di tornare in carcere l'aria in casa è irrespirabile bartolomeo ha ricevuto la notizia che non potrà passare il natale con la madre e il suo già fragile equilibrio psichico si capovolge del tutto il demone dormiente di gaiano si risveglia e promette scompiglio quell'ultima notte gaiano la passa in bianco la rabbia è troppa e lo porta a una decisione scellerata in carcere non ci vuole tornare il piano è semplice sgusciare da casa della madre e trovare il modo di raggiungere il confine il mattino dopo si alza all'alba con estrema cautela cercando di fare meno rumore possibile riempie due borsoni poi mentre fuori è ancora buio scivola via dall'appartamento e lascia i borsoni nell'androne del palazzo in tasca una pistola giocattolo con quella va per strada ha il passo affrettato troppo per essere l'alba ma in giro a quell'ora non c'è un'anima e nessuno lo nota raggiunge a piedi piazza lavagnola alla periferia di savona si guarda attorno e intercetta un uomo intento a scendere dalla sua auto una panda verde quell'uomo si chiama maurizio ravelli e di mestiere fa il panettiere uno la cui giornata inizia sempre troppo presto il panettiere intento a chiudere l'auto vede un uomo attraversare la piazza lo sguardo cattivo e la camminata troppo spavalda quell'uomo viene verso di lui qualche secondo dopo si ritrova con una pistola puntata alla testa costretto a mettersi al volante gaiano intima all'uomo di portarlo a genova devo tornare in carcere gli dice ma prima una puntatina a casa della madre per prendere i borsoni con i vestiti 30 chilometri dopo il povero panettiere ferma l'auto a san pier d'arena alla periferia ovest sperando in cuor suo di essersi liberato da quell'incubo gaiano però dall'auto non si muove anzi sempre con la pistola puntata in faccia fa scendere il povero panettiere e si mette alla guida io gli dice in carcere non ci torno mette in moto e se ne va qualche ora dopo inizierà la caccia all'uomo anche i suoi familiari lo cercano il fratello natale avvertito dalla madre prova a intercettarlo avrebbe dovuto portarcelo lui al marassi quella mattina stessa lo ritroveranno dopo due giorni di serrati appostamenti a mentone in francia mentre con la flemma di un comune cittadino se ne andava in giro indisturbato a bordo di un'utilitaria lui non può saperlo ma in quel momento è l'evaso più ricercato d'italia il dibattito in tv sui social e sulla stampa è accesissimo come è stato possibile concedere a un serial come gaiano un permesso premio ma in un universo giudiziario che aveva reso possibile la libertà vigilata ad angelo itzo che gaiano se ne andasse in giro indisturbato era un fatto assolutamente plausibile ma questa è una mia personale considerazione concedetemela le porte del carcere si chiudono un'altra volta alle sue spalle nello sgomento generale quello dei suoi familiari che ai giornalisti affidano il loro dispiacere per un fratello e un figlio che per loro era profondamente cambiato e non vedeva l'ora di ricominciare una nuova vita quella sarà la sua ultima grande fuga non ne avrà mai più l'occasione uscirà dal carcere il 22 gennaio del 2015 all'interno di una sacca dell'obitorio bartolomeo gaiano si era ucciso impiccandosi con un lenzuolo alle grate della finestra della sua cella nel carcere di sanremo pochi giorni prima di quel gesto estremo aveva ricevuto l'ennesima condanna a sei anni dieci mesi per evasione sequestro di persona e rapina a mano armata si chiude così una delle pagine più agghiaccianti della cronaca italiana un uomo sempre sull'orlo del precipizio un lucido folle che aveva ucciso tre donne innocenti e che la vita aveva già provato a sufficienza sempre in bilico tra l'amara consapevolezza di essere un perdente dalla nascita e il disgusto per la sua vita votata al male e si conclude così il mio video ditemi conoscevate la storia di questo criminale parliamo nei commenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video vi ringrazio anche per tutti i commenti che mi avete fatto al post in cui avevo detto che avevo tolto il video di rosalia quartararo vi ringrazio per la vicinanza per la solidarietà alla mia persona vi ringrazio tanto vi auguro buon anno e ne approfitto visto che questo è il primo video di quest'anno e a presto con una nuova storia crime ciao